uè non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XUDERONI Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono XUDER e ragazzi guardate un po' cosa c'è sotto di me nuovo Rift Beacon apparso al lago ghiacciato ragazzi tanta tanta roba probabilmente confermato il ritorno di Boschetto Bisunto l'avevamo già visto ragazzi all'inizio della season quando si parlò che nella parte relativa al nel codice sorgente relativa a frozen greasy groove che sarebbe Boschetto Bisunto ghiacciato si menzionava un Rift Beacon e ragazzi è proprio questo molto probabilmente sarà disponibile con la patch 10.3 di settimana prossima e quindi Aspettiamoci di vedere qualcosa di veramente veramente figo Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale per i ragazzi che mi stanno guardando in live Rimango in live ciao Ciao Grazie.